E niente, quello che deve essere un investimento, adesso è successo che da 13 euro ho perso tutto. Non lo so, il mercato è andato contro di me, quindi non so se continuare, ma io mi dissocio adesso. Per adesso mi dissocio. Quello era quello che potevamo dire. Ci vediamo in un prossimo video amici. Ciao.